Buongiorno a tutti. Secondo i programmi del Ministero il 7 gennaio avrebbe dovuto riprendere l'attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine grado quasi al 100%. Tuttavia la pandemia non dà tregua e sicuramente i programmi sono destinati ad essere rivisti. In questi giorni infatti si assiste ad una notevole incertezza sulla ripresa dell'attività didattica e sulle modalità della stessa. Molte regioni hanno già stabilito che la didattica a distanza continuerà infatti fino a quanto meno tutto il mese di gennaio e a ridosso del mese di febbraio in cui purtroppo compirà un anno questo stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19. Tuttavia la didattica a distanza come sappiamo e come abbiamo visto in questi mesi porta con sé notevoli problematiche e notevoli profili critici. Se ne è parlato in molti casi di alcuni aspetti ma gli aspetti sono molto diversi, molto ampi. Si pensi da un lato agli aspetti legati alla tutela della salute dei docenti e degli alunni nel svolgimento dell'attività didattica a distanza e di contro agli eventuali profili di responsabilità del dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro per eventuali infortuni o profili di salute legati alla attività didattica a distanza e sul punto l'Inail equipara ad esempio gli alunni ai lavoratori per determinate tipologie di infortuni che dovessero venirsi a determinare durante lo svolgimento dell'attività didattica tradizionale e ci si chiede quali tutele possano essere rivolte agli alunni nel caso di infortuni o di malattie sorte durante l'attività didattica a distanza. Altri aspetti problematici inevitabilmente riguardano il dovere di vigilanza sugli alunni da parte dei docenti durante lo svolgimento dell'attività didattica e i connessi profili di responsabilità nonché i profili di responsabilità di natura disciplinare degli stessi alunni per eventuali condotte disdicevoli poste in essere da se stessi o da terzi con il consenso degli alunni durante lo svolgimento della DAD. Si tratta di profili che tra di loro si intrecciano e che necessitano una revisione dei regolamenti interni anche degli istituti e si pensi ai regolamenti disciplinari o anche alle stesse polize assicurative che coprono gli infortuni dei docenti e degli alunni. Quindi tutte queste tematiche meritano un necessario approfondimento vista la circostanza che la didattica a distanza continuerà sicuramente per quasi tutto il mese di gennaio e purtroppo forse anche oltre. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.